Collaborare in un momento di pandemia, condividere progetti per ripartire più forti di prima è con questi stimoli che tanti imprenditori salentini puntano a farsi trovare pronti e c'è chi riesce ad emergere attraverso le sue eccellenze come nel caso di Davide Cavalera, giovane pizzaiolo ad un passo da raggiudicarsi il Master Pizza Champion con una competizione che lo vede in sfida con alcuni dei pizzaioli più importanti di tutto il panorama italiano. Per tutti senza ombra di dubbio questo è un periodo buio per tutti noi e soprattutto per la nostra categoria pizzaioli, chef, ristoratori però dobbiamo avere la forza e di volontà di andare avanti e soprattutto non dobbiamo mai smettere di sognare in grande e questo è molto importante soprattutto in questi periodi molto bui che a volte si finisce di sognare ma è molto sbagliato. Scopriamo quella che è la sua prelibatezza che vorrebbe lanciarlo nell'Olimpo della Pizza Nazionale. L'ultima invenzione fatta è una pizza con vari accostamenti e con varie materie prime lavorate. Qui abbiamo una vellutata di friarelli, fior di latte, gorgonzola dop, parmigiano di nocciole e capocollo di Martina Franca. Questa è una pizza che è molto importante per me e per votarmi basta un semplice clic in un forum, compilando appunto il forum. Grazie. Grazie.